Situazione Antonio Conte e l'Inter, io devo dirlo e mi dispiace ma devo dire l'avevo detto l'avevo detto già subito dopo Borussia Dortmund e Inter, c'è tutta una storia fra Conte e l'Inter che non è andata adesso io ve la spiego, un'altra parola che voglio spendere per tutti quei youtubers e anche giornalisti sportivi che dicevano eh ma dai non date addosso a Conte, ma Conte ma per favore non ne capite niente, non ne capite proprio niente, non avete capito che non c'era niente da dare addosso a Conte era proprio Conte che era questo, è uscito fuori adesso, era Conte che non era contento quindi allora iscrivetevi, commenti, campanella, like e facciamoci questa discussione Conte, Conte arriva all'Inter e chiede Zeko, chiede Zeko, Lukaku, chiede altri giocatori alcuni gli vengono dati, alcuni non gli vengono dati, tipo Zeko e lui già incomincia un po' a avere il muso lungo però sai siamo alla luna di miele quindi tutto va in cavalleria gli Zhang dicono vabbè insomma costa tanto però è giusto che pretenda anche tanto tutto sommato tutto si risolve andiamo al primo stop che non piace il primo stop che non piace è il pareggio con il Praga in casa la prima di Champions League dopo tanto tempo lo stadio pieno Zhang con tutti gli amici cinesi e arriva, Zhang padre, arriva allo stadio un pareggio striminzito di 1-1 preso all'ultimo con gol di Sensi beh non si aspettavano questa partenza ai cinesi incominciano un po' a starci stretti però sai ancora la stagione è lunga Conte incomincia secondo me a sentire un po' meno fiducia ma proprio piccola piccola parte in meno però lui la incomincia a sentire il campionato continua l'Inter va bene in campionato tutto sommato lì a lottare con la Juventus se si arriva a Dortmund a Dortmund perdiamo dopo vincevamo 2-0 perdiamo 3-2 e là lui sbotta e sbagliando quello il mio primo video parte da là sbotta e dice beh io con i giocatori che vengono su per giù questo dice vengono dal Cagliari vengono dal Sassuolo cosa vi aspettate capite il messaggio che arriva alla squadra allo spogliatoio è io sono bravo voi no questo non piace questo non piace alla squadra allo spogliatoio in società hanno orecchie molto molto fini capiscono che la situazione non è delle migliori là si rompe il giocattolo in Germania a Dortmund si rompe il giocattolo però c'è ancora una lunga strada da fare e viene il momento di Inter-Barcellona il Barcellona si presenta senza Messi senza moltissimi titolari e vengono giù con praticamente la squadra della primavera ansufati, giocatori così l'Inter perde a quel punto non piace a nessuno uscire in quella maniera dai gironi anche se molti youtuber, se molti giornalisti e beh ma sai ansufati, ma sai questa primavera no, cazzate, cazzate cioè una cosa è già perdere con il Barcellona A una cosa è perdere con il Barcellona B che è già qualificato non è da grande squadra non è neanche da squadra a questo punto davvero la società non dico che ne ha le tasche piene però incomincia però Conte comincia sempre a punzecchiare sai non mi avete difeso qua sai non mi avete difeso là non ha nessuna sponda non ha nessuna sponda perché l'unica sponda che poteva arrivare che era quella di Marotta secondo me sono davvero impressioni che ho secondo me quella sponda si tira fuori si tira fuori un certo momento e dice ma sai io ho fatto meglio con Allegri che con Conte ti ho portato io mi dispiace verso Zang perché gli Zang si stanno comportando bene non mi piace questa situazione andiamo giù nei piani bassi di questa gerarchia che è la squadra lo spogliatoio la stanza io credo che a un certo punto alcuni abbiano un po' remato contro o meglio non hanno si sono si sono raccontati si sono dati di gomito hanno detto beh io non lo seguo più come prima vedi forse Escrini Randanovic Brozovic lo stesso che avevano fatto una specie non di fronda però avevano avuto problemi con i cardi cioè quello spogliatoio che doveva essere uno spogliatoio unito compatto si ritrova di nuovo un po' spaccato con i nuovi Lukaku Lautaro questa è tutta una mia impressione i nuovi diciamo Lukaku e anche Lautaro metterei o altri che va bene ancora seguono conti i vecchi invece che hanno più il naso fine che incominciano a dire beh ma sai a me sta situazione di questo che si lamenta non mi piace poi tanto hanno torto secondo me torto non avevano i giocatori e andiamo agli ultimi andiamo al post-covid c'è la quarantena il covid annulla tutto praticamente il covid davvero annulla tutto si ritorna a giocare c'è Napoli anzi prima c'è Inter-Napoli la società dice vabbè dai vinciamo a meno la Coppa Italia anche per gli Zang stiamo spendendo centinaia di milioni vinciamola qualche cosa ritorniamo a vincere qualche cosa e si punta tanto alla Coppa Italia e perdiamo una zero con il Napoli e non solo perdiamo con la Juventus due volte due volte con questa Juventus non la Juventus di Allegri ma con questa Juventus e noi ci caliamo le braghe tutto questo a Zang a gli Zang a Marotta Tantonello Zanetti non piace non piace non piace anche perché conto e prendo un milione al mese cioè è bello che alla fine del mese il tuo conto è un milione in più ogni mese cioè quindi ti si aspetta che se io sto comprando una BMW mi vada come una BMW cioè non è che dica voglio avere la strada libera per vincere non è così e secondo me questo è un po' il pensiero che fanno perdi con la Juve perdi comunque se arriva in Coppa Italia e c'è Inter-Napoli boom perde in casa con il Napoli e dopo c'è il Covid il Covid annulla tutto vi ripeto sono cose molto più importanti a cui pensare sia dal lato umano che anche dal lato finanziario quindi annulla tutto però si ritorna a giocare si ritorna a giocare e c'è quel Napoli-Inter in cui l'Inter gioca meglio però alla fine anche in quel caso non riesce a passare dopo si butta via uno scudetto con il Bologna con il Sassuolo c'è tutta una questione che alla fine di questa fiera Conte non ha mai torto lui cos'è che fa? il problema sono i calendari il problema sono i giocatori il problema è la farfalla che è passata il problema è che stava piovendo tipo Danzarri vi ricordate? il problema è che non è così che il problema è sempre qualcos'altro perché io pago 12 milioni un allenatore per risolvere i problemi non per dirmi qual è il problema perché altrimenti prende un allenatore qualunque perché Spalletti con questa squadra al quarto posto ci arriva Spalletti non arriva a pezzi che bottoni veramente a calcio e pugni al quarto posto ma con chi? con quali giocatori Spalletti ci arriva? non aveva Lukaku non aveva Barella non aveva Sensi non aveva Godin non aveva tanti giocatori io mi ricordo un Fiorentina Inter che non c'erano giocatori da mettere in campo eppure ci arriva Spalletti al quarto posto prendendo 3 milioni all'anno lui 12 milioni più giocatori si arrivi secondo a un punto della Juve ma sappiamo che è un punto farlocco cioè non abbiamo mai pensato di vincere lo Scudetto io facevo profumo di Scudetto si vede lo Scudetto era più che altro per stare insieme per fare un po' di compagnia ma sicuramente no perché credevo davvero di poter vincere lo Scudetto e questo è stato un grave errore contro questa Juve adesso Conte cosa succede vuole andare via va bene vada da Zang interrompiamo abbiamo buttato 12 milioni abbiamo buttato 12 milioni dopo c'è anche da parlare di Eriksen Eriksen magari ha ragione Conte mi ha notato un giocatore che io non volevo però non è che funziona così tu arrivi e hai tutto altrimenti che senso ha pagare 12 milioni a te Antonio Conte perché la società deve pagare 12 milioni a te quando se prendi Mbappé, Neymar, Messi Ronaldo tutti insieme o ci sei tu o c'è un altro vince lo stesso cioè uno ti paga 12 milioni perché dice va bene io la squadra non la posso non posso comprare tutto quello che vuoi però hai o te ma devi farlo devi giocare non è che dopo devi venire a dire ma io Bastoni adesso gioca meglio Lautaro gioca meglio che dopo dove Lautaro non gioca meglio è lo stesso Bastoni chi se ne fotte se Bastoni gioca meglio quando Skriniar gioca peggio quando Godini gioca peggio quando Brozovic gioca peggio quando Lautaro gioca peggio cioè capisci come fai a fare quelle conferenze stampa come fai questa è una domanda davvero che mi faccio come si fa come si possono tirare avanti così è chiaro che a un certo punto i zanghi dicono basta fermi tutti e lo stesso vale per lui per Antonio Conte io l'ho sempre detto se lui non è contento basta vada da là e vedrà che troverà porte aperte perché nessuno vuole tenersi una persona scontenta non ha senso e questo per quanto riguarda Antonio Conte dopo secondo me con un anno di esperienze in più Marotta può capire chi nell'Inter è giocatore da Inter e chi no anche come giocatore perché noi abbiamo giocatori un po' fragiletti anche questa storia di Brozovic patente pronto soccorso ti dà un po' ti dà un po' la spia di qualcosa che non funziona invece mi piace molto Lukaku che sono giocatori completi da Conte e Lukaku mi è piaciuto molto Barrella mi piace molto ci sono giocatori che mi piacciono dell'Inter ci sono giocatori che incominciano a piacermi meno e che sono legati a una stagione dell'Inter che noi interisti vogliamo dimenticare e quindi se dovesse andare via anche Andanovic se dovesse andare via Brozovic beh va bene buona fortuna andate buona fortuna andate si rifà un Inter con una squadra che c'è però anche lì io credo che se l'Inter dovesse prendere qualcuno il migliore sarebbe Allegri ma di questo è un altro video ne farò un altro video su questo magari anche in giornata su chi vorrei io all'Inter di sicuro io non voglio più Conte perché Conte non vuole più l'Inter questa è la mia impressione perché se Conte è contento dell'Inter allora che Conte resti? se Conte non è contento dell'Inter ha ragione Antonio Conte è meglio sedersi là e fare una discussione per tutti gli youtubers che dicevano diversamente prima di questa sparata di Antonio Conte non ne capite molto di pallone non ne capite davvero di calcio cioè non ne capite di persone di uomini non ne capite non sparate sull'allenatore non sparate su questo nessuno sparava sull'allenatore è che era chiaro a molti che qualcosa non funzionava tranne a chi vuole avere i paraocchi e direi io ti fai Inter perché basta allora l'allenatore non si tocca cazzate cazzate totale forse oggi farò davvero un video su chi voglio all'Inter se vi interessa me le mettete sui commenti mettete like o me lo scrivete sui commenti si Diego va dai vogliamo fare questa chiacchierata con voi vi auguro a tutti di essere a mare e di seguire i miei video dal mare ci vediamo ci sentiremo prossimamente ciao ragazzi iscrivetevi ciao ciao ciao